Coach Santarelli, lo scudetto che volevate è arrivato, un triplette nazionale storico. Bello, un grande trasguardo, ci tenevamo tanto, mi fa piacere vedere tutti quanti festeggiare, io no, grazie Simo, però è il giusto epilogo per una stagione secondo me straordinaria fino a qui, ci tenevamo tantissimo e volevamo chiuderla in due gare perché volevamo concentrarci sulla Champions, ma non è stato facile perché Novara secondo me ha giocato una gara 1 bellissima, ci ha sorpreso, gara 2, secondo me siamo stati più bravi, più ordinati, anche se non siamo stati bellissimi, ma bravi le ragazze, merito a tutti noi per questo bellissimo traguardo. Un po' di festa adesso e poi si pensa alla finale. Te lo meritiamo, anche senza i nostri tifosi che ci mancano un sacco, purtroppo non possono essere qui, immagino che sarebbe stato ancora più bello divertirci con loro qua, però avremo modo, speriamo, di festeggiare tutti insieme. Grazie.